Tutto quello che ha detto il Presidente e il Direttore, io non l'avrei detto, perché loro, conoscendo io tutta la normativa nazionale e internazionale, si prendono delle grandissime responsabilità, perché primo, lì non si potrebbe nemmeno accedere in base alla legge nazionale quadro sui parchi, perché è stata dichiarata e è nel piano del parco come area A, cioè visitabile solo per motivi di studio. Quindi loro hanno sempre chiuso un occhio, ieri ho visto con sorpresa che c'era sul Corriere Adriatico una foto di Barcone, forse di un suo collega, che scaricava turisti. Io adesso non le dico, le cose come sono, la legge dice che non credo che quelli siano tutti i scienziati che vanno a studiare la natura. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.